E' arrivato il giorno della gara, qui ad Assen il pubblico ha già riempito le tribune e tutto è pronto per il tradizionale Gran Premio d'Olanda! Ancora qualche istante le inquadrature ci portano sulla griglia di partenza dove ormai tutto è pronto per l'inizio della gara. E' magico correre ad Assen, il pubblico è pronto, i piloti sono pronti, noi siamo pronti, tra poco assisteremo. Grazie a tutti! 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 Tra poco sposteremo la diretta al parco chiuso per le interviste ai piloti... Grazie a tutti!